Muschio Buongiorno, sono Davide Cidissi, autore di Muschio. Muschio, la versione italiana è di Francesco Ferrucci, con illustragioni da Federico Appel. Gli scrittori possiamo dire tante cose sul nostro libro, ma io penso che la cosa più importante l'abbiamo già detta nel proprio libro. Voglio dire che i libri, una volta che sono stati scritti, non sono più degli scrittori, sono del pubblico. Adesso tocca a voi parlare e soffrire un po' con la storia di un cane che perde la sua famiglia durante un bombardamento e alla disesperata ricerca di Mirek e Janinka. E ridere del modo canino di Muschio, da vedere il mondo. Per questo, quello che mi piace di più è che la gente lega e abbia una sua opinione. Ogni tanto ricevo una lettera o un commentario, addirittura qualche messaggio attraverso Facebook da gente che mi dice qualcosa sul libro. E adesso voglio leggere uno di questi messaggi. Come tutte le sere, da quando è nata, biggiamo un po' nel letto prima che arrivi il sonno. Ieri abbiamo incominciato Muschio. La nostra intenzione è quella di leggere un capitolo ogni sera, ma ogni non abbiamo resistito e ne abbiamo lì di tre. Ti prende dal primo paragrafo con tutte le sensazioni che ti sveglia. Ligevo ad alta voce, con un nodo in gola, e ho dovuto smettere di leggere, emozionata. E quando ho guardato mia figlia con gli odli bagnati, abbiamo sorriso di felicità per aver trovato questa meraviglia di storia. Grazie tanto, davvero, per averla scritta e per averci messo la sensibilità e il dono. Era tanto che non trovavo un libro per bambini così speciale. Non era sicura se sarebbe stato adatto all'età di mia figlia, ma per mia sorpresa l'istoria, anche se triste, l'ha affascinata per la sua bellezza e profondità. Ci ha aperto un mondo di riflessioni, di empatia, di domande, e l'abbiamo soltanto cominciato. Non volevo disturbarla, non volevo disturbarlo, ma ho pensato, non volevo disturbarlo, ma ho pensato che l'avrevo fatto piacere, sapere Ogni, Ogni, una bambina se ne andate a dormire pensando a Muschio. Complimenti e arrivederci. Guida. È fantastico. Cosa ha significato per me recibere il premio Strega, ragazze e ragazzo, il premio Cento? Bene, molto. L'opportunità di visitare tante scuole italiane, la popolarità di un libro poi tradotto in tante altre lingue, e l'onore di ricevere a Bologna la visita della Ministra della Cultura d'Italia, che aveva letto Muschio. Molsa ha stato tradotto al turco, al esloveno, coreano, sinese, italiano, con copertina rígida e copertina mòrbida, holandese, tedesco, espagnolo. E ha una novetà, Musgo i la bèstia, Molsa i la bèstia. E ancora Russo, Mosh, in questa edizione straordinaria. Muschio. Cane nero dal pelo riccio e dal buon fiuto. Non capisce la guerra. Non sa chi la sta combattendo, ni perché. Sa solo che un giorno la sua casa e i suoi bambini non ci sono più. Una bomba ha distrutto toto ogni un secondo. Eppure, l'odore dei bambini, che l'odore inconfundibile di soletico, di pozzanghere e di cinteile, ogni tanto ricompare. E fra le mille avventure che si trova ad affrontare, prigioni, fughe, belve feroce e uomini ancora più feroce, non si dà mai per vinto. Certo che riuscirà a ritrovarli. I cani possono essere eroi e non tutti gli uomini sono malvagi. Muschio è un cane semplice, ma conosce la speranza. Quella è la sua storia.